Quindi ci dice pure l'articolo 4 della Costituzione perché interviene lo Stato, lo Stato interviene perché il diritto al lavoro è garantito a tutti, non solo è garantito a tutti, ma siccome si erano messi a discutere, è proprio lì che c'è un famoso confronto fra Lelio Basso e Calamandrei, proprio su questo punto, dice ma scusa gli fa Calamandrei, ma se noi scriviamo che tutti hanno il diritto al lavoro e poi pubblichiamo questa Costituzione, un domani davanti a un ipotetico ufficio o ministero che si occupa del lavoro o davanti al palazzo del governo qualunque esso sia, le masse che oggi, perché mentre siamo nel 46, nel 47 c'era la ricostruzione, la situazione drammatica che c'era in quegli anni, le masse di operai e di lavoratori e anche di braccianti, c'è l'enorme problema della miseria della cosiddetta classe di lavoratori contadini, poi si fece la riforma agraria ma la si fece a metà, perché nei lavori della Costituente c'è scritto che andava fatto tutta un'altra politica per la riforma agraria, ma non scendiamo in questa, farei una digressione troppo lunga, quindi gli fa Calamandrei, questi si presentano là e mi dice, senti qua c'è scritto sulla Costituzione che c'ho diritto al lavoro, adesso dammelo, e come si fa? Noi cosa risponderemmo senza perdere la faccia, dice grossomodo, in maniera poi arguta, elegante come la tipica di Calamandrei. L'Elio Basso gli risponde, ma anche Ghidini, che è un altro Costituente che l'economia conosceva, e gli risponde, sinceramente Basso, e gli dice, guarda che stiamo parlando non di diritto privato, non è che quella norma riconosce un diritto come se fosse un impegno, una promessa, una cambiale o un contratto che viene stipulato, quello è diritto pubblico, quello è un impegno dello Stato che non deve aspettare domani, ma subito dovrà essere attuato, perché l'effettività del diritto al lavoro si garantisce attraverso gli strumenti della politica economica e fiscale della piena occupazione, che sono quelli esattamente previsti e proprio di quello parlano, perché quando parlano dell'articolo 4 e dell'effettività del diritto al lavoro, i Costituenti, da Fanfani a Moro a Ghidini, ai rappresentanti del Partito Comunista, parlano esattamente di quegli strumenti di intervento, di tutela del lavoro, di intervento pubblico nell'economia, attraverso sia la pubblicizzazione delle imprese di preminente interesse nazionale, sia attraverso il regime della funzione sociale della proprietà, cioè meta-individuale della proprietà, che vada a, chiaramente quella dell'impresa è quella che più di tutte si presta a una funzione meta-individuale, vada a portare che cosa? Tutto insieme alla crescita del Paese che garantisce la piena occupazione. Quindi l'affermazione che sarebbe enfatico, quasi un'affermazione buffonesca, questa del diritto al lavoro effettivo fatta in Costituzione, è del tutto errata, perché si basa su una grande mistificazione, che la effettività del diritto al lavoro fosse scindibile dalle norme della nostra Costituzione economica, dalle norme sulla tutela del lavoro, dalle norme sull'intervento pubblico nell'economia, dalle norme sull'intervento programmatico dello Stato per evitare i fallimenti del mercato, perché l'articolo 41 si occupa di questo, si occupa di evitare i fallimenti del mercato, si occupa di evitare l'esternalizzazione dei costi da inquinamento o da qualsiasi altro effetto negativo sul territorio dell'impresa, si occupa di regolare il continuo flusso degli investimenti e l'accesso nel mercato, di sostenere questo e lo può fare effettivamente avendo un certo spazio di manovra. Tutto questo insieme di strumenti era inscindibile, tutto questo insieme di strumenti però, pure essendo inscindibile dall'obbligo principale della Repubblica, che è quello di rendere effettivo il diritto al lavoro attraverso le effettive politiche della piena occupazione, è al tempo stesso disattivato, ridotto a praticamente zero dall'applicazione del trattato e dall'idea che quelle regole che abbiamo visto all'inizio di questa conversazione, che caratterizzano il trattato, noi abbiamo detto che quelle regole, l'economia competitiva, l'economia sociale di mercato fortemente competitiva, in cui la piena occupazione è subordinata alla stabilità dei prezzi, sono praticamente una specie di ragnatela che tiene insieme tutto, quindi ogni parte rinvia a vicenda tutto questo principio, le norme sul diritto al lavoro, sulla piena occupazione e sulla effettività come obbligo della Repubblica, inteso come plesso governo-parlamento, cioè chi ha l'indirizzo politico, un obbligo indeclinabile perché è l'obbligo che sta in Costituzione, cioè non c'è nulla che può cambiarlo quell'obbligo, finché non arriverà qualcuno con i carri armati a dirci che la Costituzione è ridotta a zero, Calamandrei parla anche di questo, ma ve lo risparmio, cioè la Costituzione che viene automaticamente distrutta dal fatto di disapplicare i principi fondamentalissimi, automaticamente distrutta, e allora dice le forze politiche si troveranno allo Stato libero, allo Stato dei puri rapporti di forza, ed è quello che succede se noi diciamo che quelle clausole dei trattati sono abilitate come fonte a rendere inattive, a far disapplicare o addirittura ad abrogare tacitamente le norme fondamentali della nostra Costituzione.